Saladino, il sultano della Terra Santa. Saladino, il cui nome completo era Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, è stato un sovrano e condottiero curdo, sultano d'Egitto, Siria, Yemen e Ijaz, dal 1174 alla sua morte, col titolo l'Aqab di Al-Malik al-Nir il sovrano vittorioso punto musulmano sunnita di origine curda. Saladino si è opposto con le armi alle crociate europee nel Levante, come prima di lui avevano fatto d'Imad al-Din Zengi e suo figlio Norandino. Al culmine del suo potere, il suo sultanato includeva l'Egitto e altre parti del Nordafrica, Siria, Mesopotamia, Ijaz, Yemen. Infanzia e giovinezza. Saladino nacque a Tikrit, in Iraq, nel 1138. Suo padre, Ayyub, era un ufficiale curdo al servizio del sovrano selgiuchide di Mosul. La sua famiglia era di origine modesta, ma Saladino ricevette un'educazione di qualità, studiando il Corano, il diritto islamico e la filosofia. Nel 1154, Saladino si unì all'esercito del suocero, Nur al-Din, che governava l'Egitto. Nur al-Din era un abile condottiero che aveva sconfitto i crociati in diverse battaglie. Saladino imparò molto da lui e presto si distinse per le sue capacità militari. L'ascesa al potere Nel 1169, Nur al-Din morì e Saladino fu nominato visire comandante dell'esercito d'Egitto. Sotto la sua guida, l'Egitto divenne una potenza militare e Saladino iniziò a pianificare la riconquista della terra santa dai crociati. Nel 1171, Saladino sconfisse i Fatimidi, la dinastia che governava l'Egitto, e lo incorporò nel suo sultanato. Questo evento fu un punto di svolta nella storia delle crociate, piché segnò l'inizio di un periodo di espansione musulmana nella regione. La riconquista della terra santa Saladino iniziò la sua campagna contro i crociati nel 1177. In quell'anno, fu sconfitto nella battaglia di Mongisard, ma riuscì a recuperare la sua posizione l'anno successivo, quando sconfisse i crociati nella battaglia di Attin. Dopo la vittoria di Attin, Saladino conquistò Gerusalemme, la città santa per i musulmani, il 2 ottobre 1187. La conquista di Gerusalemme fu un evento di grande importanza storica e religiosa, e Saladino fu acclamato come un eroe da tutto il mondo musulmano. Saladino governò la terra santa per i successivi 16 anni. Durante questo periodo, mantenne la pace con i crociati e permise ai pellegrini cristiani di visitare Gerusalemme. Morte eredità Saladino morì a Damasco il 4 marzo 1193. La sua morte segnò la fine di un periodo di grande prosperità per il mondo musulmano. Saladino è considerato una delle figure più importanti della storia islamica. È stato un abile condottiero, un abile politico e un uomo di grande cultura. La sua figura è ancora oggi oggetto di ammirazione e rispetto in tutto il mondo. Le sue qualità. Saladino era un uomo di grande coraggio, intelligenza e carisma. Era anche un uomo di grande umanità e tolleranza. Era noto per il suo rispetto per i suoi nemici e per la sua generosità verso i bisognosi. La sua influenza. L'influenza di Saladino si è fatta sentire in tutto il mondo islamico. È stato un modello per molti leader musulmani e la sua figura è ancora oggi fonte di ispirazione per molti musulmani. La sua rappresentazione nella cultura popolare. Saladino è stato rappresentato in molte opere di cultura popolare, tra cui film, romanzi e opere teatrali. Una delle rappresentazioni più famose di Saladino è quella del film Il Re dei Re 1963, diretto da Cecil B. Dei Mille. In questo film, Saladino è interpretato dall'attore Peter O'Toole. Grazie a tutti.